è meglio cambiare gli pneumatici in base alla stagione oppure optare per gli all season io ammetto di essere un po pigra e quindi preferisco gli pneumatici quattro stagioni così non devo cambiare due volte l'anno ma cercherò di essere oggettiva e di trovare i pro e i contro dei due tipi di pneumatici ma solo se prima attivate la campanella sul nostro canale youtube lo avete già fatto siete sicuri allora cominciamo le differenze le differenze sostanziali stanno nella mescola e nel disegno del battistrada nei pneumatici quattro stagioni c'è un alta percentuale di silice per mantenere morbida la gomma anche con temperature molto basse il battistrada presenta molti più canali d'espulsione e lamelle rispetto agli pneumatici estivi questo per eliminare neve e acqua ma sono comunque in un numero inferiore rispetto agli pneumatici invernali con gli all season avremo sicuramente un risparmio in termini economici ma avremo anche un consumo leggermente maggiore rispetto agli altri pneumatici stagionali e delle prestazioni inferiori questo perché devono adattarsi ad ogni condizione climatica passiamo ora all'utilizzo del doppio treno avremo la certezza di avere lo pneumatico adatto al tipo di stagione e quindi anche le migliori prestazioni l'aspetto negativo è che dovremmo cambiare due volte l'anno con un costo e un impiego di tempo aggiuntivi i consigli di ratti sicuramente avere lo pneumatico adatto ad ogni stagione è la scelta preferibile ma se vivete in una zona in cui nevica di rado e le temperature non vanno spesso sotto lo zero gli pneumatici all season riescono a garantire sicurezza e risparmio un'altra considerazione da fare è quella sui chilometri percorsi gli pneumatici quattro stagioni infatti tendono a consumarsi più facilmente quindi se percorri in media più di 15 mila chilometri l'anno noi ti consigliamo di scegliere il doppio treno di pneumatici quello invernale e quello estivo al prossimo video con altri interessanti consigli e quindi